Parlare di libertà in rapporto al mio mestiere non è assolutamente facile, però mi permetto di farlo adesso con più di 30 anni di carriera alle spalle, ma anche con una visione per tutto quello che riguarda il progetto e infatti posso dire che proprio accanto a Carlo Marrale con il quale stiamo vivendo un'esperienza meravigliosa portando avanti questi 40 anni di vacanze romane, uno spettacolo che racconta la nostra storia, quindi parliamo del tempo, adesso noi possiamo permetterci di essere perfettamente nel tempo pur essendo fuori tempo, a me piace dire che siamo avanguardisticamente vintage, siamo come un orologio fermo alle 10 e 10 che due volte al giorno è di moda e questa è una libertà che gli artisti difficilmente si possono prendere, sono pochi gli artisti che lo possono fare, ce la stiamo godendo tutta proprio perché siamo liberi di cantare le nostre canzoni e di progettare il nostro futuro senza avere necessariamente una casa discografica che ci rincorre o la necessità di dover fare molti passaggi in radio, ma semplicemente cercando di essere noi stessi per ciò che siamo stati nel passato, per ciò che siamo nel presente e per ciò che ci auguriamo di essere per il futuro.